Nella tradizione, per la modernità, con questa frase si può sintetizzare il libro Giovanni Lamioni, La mia Maremma, un modello possibile per l'Italia. Il testo è una lunga intervista, un dialogo tra Giovanni Lamioni, presidente della Camera Commercio di Grosseto e vicepresidente di Union Camere, e David Lamantia, scrittore e docente d'italiano, su come la Maremma sia un modello di sviluppo culturale ed economico tra tradizione e innovazione da esportare in tutta Italia. Gianni è trappeso un percorso per portare il mondo in Maremma, quindi Maremma Foodshire, Maremma Wineshire, è stato un percorso molto importante perché ha messo in luce che la Maremma ha tante specificità, la Maremma ha il mare, ha la montagna, ha le colline, ha le terme, ha resti archeologici molto importanti, quindi si tratta di una terra che rappresenta molto bene la specificità italiana. Il libro è stato presentato a Firenze, nella sede dell'Accademia dei Giorgofili, e ha visto la partecipazione, oltre alla Mioni e alla Mantia, anche di Giampiero Maracchi, presidente dell'Accademia dei Giorgofili, e Alessandro Pacciani, professore di Agraria. Un libro che parla sì di economia, ma anche di chi ama questo territorio toscano, aspro ma ricco di tipicità uniche, perché, secondo la Mioni, la forza di un territorio sta nel turismo e nell'agroalimentare. Abbiamo investito con forza in questi due comparti, sostenendoli in maniera unitaria, vicendevole, non a compartimenti stagni. Oggi il nostro è un territorio che ha oltre 10 milioni di presenze turisti, è un territorio che ha una esportazione anche significativa di agroalimentare, perché ha avuto una visione, ha fatto una scelta, ha trasformato le proprie debolezze, i propri limitri, in consapevolezze e opportunità. Secondo la Mantia, il modello Maremma è un modello riproducibile anche a livello nazionale per rilanciare le tante aree rurali italiane, dal Salento alla Sicilia.